Amici Niter, amiche Niter, benvenuti! Oggi vedremo 5 modi per indossare cam. Cam è un comodo maglione realizzato in tondo dall'alto verso il basso, in un unico pezzo senza cuciture. Ha uno sprone raglan ed è lavorato partendo dallo scollo. Le maniche e il corpo vengono divisi in corrispondenza delle ascelle e i tre pezzi vengono terminati separatamente. Le maniche sono decorate da un'elegante treccia a coste ritorte e questa viene riproposta anche in corrispondenza dei fianchi. Il corpo si apre in fondo con uno spacco sovrapposto e la treccia prosegue come decorazione sul davanti. Lo spacco del dietro propone un motivo a coste ritorte e risulta più lungo del davanti. Tutti i bordi sono lavorati a coste ritorte. Oggi vedremo 5 modi per indossare cam. Require la quell'u... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti